ciao amici vediamoci insieme questa ricettina veloce veloce farò un liquore al mandarino userò questo alcol questi sono mandarini che mi ha dato mia cognata quindi sono rigorosamente bio ci tolgo la buccia che poi però vado a togliere la parte bianca raschiandola perché al contrario del limone che possiamo fare con il pelapatate il mandarino rimane morbido quindi conviene togliere le bucce e raschiarle quindi non ho contato i mandarini come vedo in alcune ricette anche perché a seconda come sono grandi questi mandarini cambierebbe la dose io li ho puliti tutti poi li ho pesati e non messi 100 grammi 100 grammi di bucce la ricetta la ricetta che mi ha dato mia sorella patrizia che lo fa sempre diciamo che l'ho modificata un pochino perché lei mette più acqua rispetto all'alcol io sono andata a vedere anche la ricetta della mia amica luisa la magica cucina di luisa e ho visto che lei mette la stessa quantità dell'alcol in acqua quindi ho modificato un pochino la ricetta di mia sorella bene continuo a pulire le bucce fino ad arrivare al peso che ho deciso di mettere 100 grammi ok a questo punto ci verso l'alcol vedete le lascio così come sono le peso io adesso ne ho fatte un pochino di più perché ho dell'alcol in più e quindi ne metterò aumenterò leggermente la dose però ecco a voi ho messo la dose precisa ecco qua ci verso l'alcol sopra deve essere coperto tutte coperte le bucce ci siamo poi lo chiudo durante i giorni che deve stare fermo ogni tanto lo sbatto lo capovolgo in modo che poi si abbassano vedete io sto mettendo quell'antichia di alcol in più in proporzione metterò aumenterò leggermente la dose anche dopo con lo zucchero e l'acqua e quindi adesso dicevo lo chiudo ci metto anche un talloncino con la data ecco qua e questo lo terrò dieci giorni dentro uno uno sportello della cucina al buio bene passati dieci giorni ecco qua preparo un tegame dove ci verso l'acqua la dose di acqua e la dose di zucchero e vado a metterla sul fornello girando per far sciogliere bene lo zucchero e portandola ad ebollizione nel frattempo vado ad aprire il barattolo in questi dieci giorni ogni tanto l'ho capovolto per far coprire bene tutte le bucce e per far uscire bene tutta l'essenza del mandarino dei mandarini quindi metto a scolare con un telo così ok una volta scolato per benino l'acqua con lo zucchero che si è sciolto è pronta la faccio un attimino raffreddare ma anche calda la possiamo mettere tiepida magari e poi la verso nell'alcol l'ho versata tutta dentro mescolato per benino ora io voglio fare un secondo passaggio di filtraggio lo preferisco non servirebbe però lo faccio quindi metto un telo bianco questa volta così e filtro sotto ci ho messo uno scolapiatti uno scolino per far reggere il telo più che mai e scolo di nuovo ok così viene bello filtrato ho preparato le bottiglie che avevo le bottigliette sono sono già pulite però io faccio così ci metto un po di alcol e le sciacquo con l'alcol si lo so è uno spreco però l'acqua disinfetta altrimenti dovreste bollire però poi si rischia che ci rimane un po d'acqua invece così con l'alcol è molto meglio ok mi riempio le mie boccettine io consiglio sempre di non farne molto perché se ne facciamo di tanti litri tipo la dose doppia questa che ho fatto io poi rischiamo che perché non ci sono conservanti non c'è niente dentro quindi per massimo un anno io lo terrei non di più quindi in questo modo con le scene finisce subito e lo ripetiamo sempre quando ci sono i mandarini bio naturalmente bene amici vi ringrazio della visione il mio mandarino è pronto se venite a trovarmi ve ne offro un boccino ciao a tutti al prossimo video ciao ciao